Eccoci qua amici su Stellaris, sono Gianna Mark e diciamo stanno succedendo cose non molto guerreggianti perché Stellaris come movimento è un gioco abbastanza lento e la coesione... Allora sono quelli... è stato brillante, a nome di tutti i pellegrini ti ringraziamo, non sono un poeta, non posso darti l'esperienza nei nostri mondi ma grazie alla tua generosità abbiamo toccato il divino, possa l'eterna gloria benedire il reame su di te gloria del benessere del reame aggiunto per 5 anni più 10% felicità, più 5% uniti e più 150 attrazione spiritualista che non è molto utile però... ok Allora... Allora, leggi... Succession Terme Invita Member Potei fare per la Technology Oppure... Tecnologia... oppure... potere diplomatico... no, lasciamo così... Ah, tradizione... Ah, il nostro... contadoppio... oppure... accettazione di diplomatica... che dà un favore... no... Ente... coordination... Così... il nostro potere... Allora... dovrei cercare di aumentare il mio potere... Per sorgiocazione e sorgiocazione... ok... Upscaling completo Ok... Oh... benissimo... Allora... il corso della tecnologia è solo... 6% e delle tradizioni... Quanto ci metterei... Ah... I segni del fato... Sì... Ho capito... Ehm... Quelle cose del fato... Sono un... Abbastanza... Ehm... 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 Enigmatici... Questi dizi... Ehm... 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 Poi... Poi... Dovrebbe... Scomparire... Più... 108 ... ogni mese... Ok... Allora... Pianeti... Aaaaaah... Ehm... È morto lo scienziato! allora questo lo sveglutiamo e lo teniamo per questo ok mentre per la scusa un attimo ricerca tecnologia società 41 per cento quanti anni ha allora se teniamo l'altro fermo così appena muore lo scienziato allora editti warzone campaign exotic gas as fuel sensore cristallino nanite actuation e costa due naniti ok allora disfetto alveare che è morto che è morto a lui e mettiamo lui subito ecco sì abbiamo già un 37 per cento allora in 104 mesi in 19 mesi e quello sta bloccato per ok comunità cooperative buono danno ai droni antichi oppure più 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 produzione dalle miniere ok 160 diventerebbe 16 ok tinge agnaca e è diventato cosa scusa scusa situation log shrouded ah altro scienziato morto magnifico allora no scusa della della stazione scientifica senti boh tu allora senti tu a costruzione vai la tu a costruzione vai qua vai qua e vai qua ok ok allora shortage di dei dei gas esotici che dovrebbe sparire oh allora per lo stato di di suggestion law a allora le leggi attiva come come la vogliono cambiare no ogni 30 anni ogni 10 anni è una federazione di livello 1 coesione a coesione totale richiede che la federazione sia di livello 2 senti eh livello ah manca poco ok mmm senti allora anarchy composition ha una flotta superiore alla mia però scusate eh allora e poi facciamo questo ok allora penso diplomatico Scusa ma non mi dice come Senti se Ok allora ora vediamo Oh benissimo Sono il secondo Status change Ah un nuovo presidente è scelto quando un altro membro lo sorpassa No lui imparerebbe troppo da me Oh bene sono passati E poi li vado a far fare fuori questi altri Ah ok livelli ah bene allora rafforza l'unità dei lavori Avvaiable enjoy Envolve ok Ok No Senti allora Senti Senti Vassallino Facciamo così Così magari aumenta di più No allora Rinegoziamo Diplomazia Scolarium Scolarium Espansione permessa Allora Allora tu mi dai Allora io ti do Ho un po' Di alloi Pochi Tu entri Io entro in tutti i tuoi conflitti E abbiamo anche i tuoi conflitti Ma devi permettermi Un altro Strategiche no Ok Ok Allora Ci metterebbe Costo mensile per l'overload Ah Allora Allora Già un pochino Allora Stato cambiato Ok Allora Qualcosa che Ministero Della Verità Oh Buono Questo è ottimo E poi Ah Ci fa C'era anche quello Però Ah Ecco Così Eh Questi qua Glieli passo Ah Bene Bene In otto mesi I beni Di consumo Finiranno Ricerca Completata Amenities Autocurating Vault Synapse Drone Output Pure Starbase Capacity No Questo Allora Senti Ehm Grande Amico Simpaticone C'è Terresti di Sprevassarlo No Perché Sei ovviamente Un membro Qua Però Ecco Offriamo Offriamo Di un 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 Trader Allora Io ti posso dare Ehm Un po' di Minerali 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 Ehm Ehm Una Tantum Se tu in cambio Mi dai Ehm Dei beni Di consumo Tutto Perché Ah Senti Facciamo così 8000 20 Eh Ok Ma si Dai Ok Ok Dai Su Oh Questione Totale Ok Senti Allora Risorse Minerali Scriviamo Risorse Ehm Beni di consumo Ehm Ehm Quello Ok Per 12 Minerali In fili Ah Forse avrei Dovuto Fare 5 Ok Consumers Magnifico Ha accettato Stato Perché Non me li Cede Bene Bene di consumo 5 Ok E io ti do Incoming inquiry Ehm Minerali 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 Si Ti do Si Dai Ok Con i miei Ah si Con i miei vassalli Certo Così Maga Non so No No Allora Up to next Mercenari In cloud capacity Ok Allora Missing in action Allora Andiamo un pochino Dove sono le mie truppe Ok Unifichiamole Ok Senti Tu Vai qua E vai A A A controllare Loro Torn classico Corvette Ok Ah Ok Ah Benissimo Specializzazione Completata Ah Ok Allora Questa Researche Actualized Plastil armor Mmm Questi qua Del Oppure L'anello orbitale No Questo Ci mette solo 26 mesi Open building block Ok Allora Allora Quanto ha lui Di Di Lealtà mensile Sette Ah Capito Allora Stavo dicendo Cooperativo Allora Holdings Benissimo E potrei fare Questo per il cibo Oppure Ah Dovebbe essere un 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 Ah Non Si dai Il ministero Della scienza E poi Ah Questo Anche Si Posso vedere solo nella sua capitale Come aumenta Come aumenta Ah Con la Lealtà Magnifico Oh Improved drone Mmm Ingegneria Enigmatica Oppure possiamo diventare la crisi Eh ma Non so Trascend learning O Shared destiny Mmm Visto che Penso di avere Di Di volere un bel po' di Vassalli Facciamo questo E poi Si va di Un Ok 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 Building Mining Station Ok Allora Tu Fai Uno No Allora Scusa Perché No Ok Ah Situazione Ah Si Eh I I Gas Si Gas I Gas 100 Eh Voi andate bene via E compro altri 100 Allora Securing contractors Magnifico Sono il secondo Sono il secondo Allora Leggi Ferrari Empire Succession Tipe Fleet Contribution Per Duemila e Ottiani Ah Chi è morto O Altri due Envoice Senti Voi Siete neutrali Miglioriamo le Le Relazioni Con voi Con voi E Eh Voi chi siete? E Con voi Ok Aspetta L'ho già fatto Fii Allora Chi è morto? Ah Il governatore Ehm Si Ok Allora Quanto stiamo? Ah Trenta minuti Ce ne possiamo andare E quindi Eh Ci salutiamo Sta per crollare Ma Ma io proprio poi devo Riuscire a A A Comprare Quelle cose Allora Qua Si sono unite? No? Perché Si stanno ancora Upgradando No Mancano le ultime Allora Appena finisce l'upgrade Ehm Confer Dederazione Delvana Rivale Eh Supposta Indipendenza Contro chi? Di chi sono? Sono Del Dabula Spion Order Dichiaro Rivalità Sì 05 Gratis Gratis Ships Upscaled Allora E abbiamo Guadagnato Un favore Con loro Senti Ehm Research Agreement Accetto No Ok Allora Critica alle social page Volatile matters Ok Allora Prima di lasciarci proviamo a fare questo, per un'ultima volta, no, ok, per bene di consumo, è cooperativo ed è anche amichevole, ah, l'ho accettato e poi l'ha cancellato, boh, chi chi la capisce, li ha, io sono senza parole, ah, posso produrre anche beni di consumo, è il corso dei droni, invece qua potrei produrre, i uniti, ok, ci, 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 ci,